Ciao amici, siete riusciti a indovinare dove sono finita? Guardate un po' in giro! Ma aspettate, andiamo con ordine! Ai primi di marzo ho iniziato a fare i preparativi per lasciare la barca a vela sulla quale vivo e fare le valigie per partire alla volta di una grande avventura. Insieme al mio fidanzato ho pulito la barca e preso tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la sicurezza durante la nostra assenza. Abbiamo chiuso le prese a mare, sistemato gli ormeggi in vista del possibile brutto tempo, riposto tavolo e piante, liberato il pozzetto e svuotato nel frigo preparando la classica insalata del velista in cui confluiscono tutti gli avanzi della cambusa. Ho poi lasciato la Sicilia per raggiungere la casa dei miei genitori in Piemonte, dalla quale ho lavorato da remoto per un paio di giorni. Poi ho preso il volo per Copenaghen e sono rimasta qualche giorno nel solito appartamento che conoscete bene. Ciao amici e buon pomeriggio da Copenaghen! Ebbene sì, dopo più di due mesi sono tornata a Copenaghen, ma soltanto per 48 ore. Adesso è pomeriggio, sono quasi le 5, ho lavorato tutto il giorno perché oggi e domani sono gli ultimi due giorni in cui lavoro prima di questa grande avventura che ovviamente sarà parte delle mie vacanze e quindi ho cercato di finire le più cose possibile oggi, di parlare con un po' di colleghi, ho anche fatto una pausa pranzo con una mia collega, sono andata a mangiare in un caffè qui vicino in modo da salutare un po' le persone mentre sono qui. Devo dire che comunque sono piacevolmente stupita dal tempo, è stata una bella giornata oggi, fredda ma insomma non una brutta giornata, il cielo era sereno, azzurro e inizia a esserci molta luce al pomeriggio come anche al mattino, quindi sono di buon umore. Non ho ancora finito di lavorare ma devo aspettare alcune risposte, quindi penso che lavorerò ancora un pochino stasera. Intanto faccio un po' di YouTube per queste ore perché voglio finire di caricare i video in modo da non lasciare il canale scoperto, ma prima mi faccio un caffè. Ciao amici, giornata di lavoro super intensa, come forse potete intuire dalla mia faccia un po' stravolta. È venerdì e in realtà speravo di riuscire a finire di lavorare presto, mi sono organizzata bene durante la settimana, ho detto ah sì, finisco presto così poi posso fare la valigia e invece no, perché ovviamente ci sono sempre delle cose all'ultimo minuto, io mi illudo che, mi sono illuso che questa volta non ce ne sarebbero state ma in realtà non è stato così. E come sempre prima delle vacanze c'è sempre un pochino di ah finisci questo, finisci quello e saltano fuori nuove cose che sembrano super urgenti, di lavoro ovviamente. Però adesso spero di aver finito, sono le sei e mezza, c'è ancora un pochino di luce fuori e adesso è ora di fare la valigia, starò via quattro settimane, quindi un periodo molto lungo e andrò in un posto che è uno stato solo, dove però ci sono tanti climi diversi, quindi mi devo portare un po' di tutto. Non vi dico dove vado, voglio vedere se riuscite a indovinare, quindi fatemi sapere nei commenti se riuscite a indovinare e sicuramente quello che vi mostrerò adesso e che metterò nel mio zainone da backpacker, ho già detto che forse faccio backpacking, quello che metterò nel mio zainone vi fornirà qualche indizio e qualche altro indizio ve l'ho già dato nei video precedenti, quindi vediamo chi di voi indovina. Allora qui abbiamo la roba un pochino più estiva, leggera, un po' di costumi, vabbè un asciugamano, una maschera da sub e uno snorkel, poi qui abbiamo un po' di roba più sportiva, leggings vari, vabbè un caricatore, roba per fare trekking un po' più al freddo, delle maglie nel caso in cui faccia freddo, una giacca da pioggia, una giacca impermeabile, una fascia, roba, insomma, andiamo sempre più verso il freddo qua e poi niente, quello che mi metterò durante il volo. E quindi da questo intuite che ci sarà un volo, forse più di uno. Musica Sabato mattina, insieme al mio fidanzato, sono partita dalla stazione dei treni di Copenhagen per andare all'aeroporto, dove ho preso il volo per Madrid. Ma Madrid non era la destinazione finale, perché da lì siamo saliti su un altro aereo che ci avrebbe portati molto più lontano. È stato uno di quei voli belli in cui si guardano film, si viene serviti e riveriti con un sacco di cibo e si possono ammirare le nuvole che danzano sull'oceano fuori dal finestrino. E dopo quasi 13 ore siamo arrivati a destinazione. Amici, siete riusciti a indovinare dove sono finita? Guardate un po' in giro. Sono a Quito, la capitale dell'Equador, quindi sono un po' dall'altra parte del mondo. E farò backpacking, quindi viaggerò con lo zaino in spalla per le prossime quattro settimane in giro per l'Equador. Vi porterò con me in ogni passo di questa avventura, così scopriremo insieme una terra nuova. Lo stello nel quale abbiamo soggiornato nel cuore di Quito è il Secret Garden, molto famoso tra i backpackers a Quito e in Ecuador, per l'atmosfera vivace e la terrazza panoramica. Quito, la capitale dell'Equador, si trova sulla linea dell'Equatore sulla Cordigliera delle Ande, ad un'altitudine di ben 2850 metri sopra il livello del mare, cosa che la rende la seconda capitale al mondo per altitudine. Proprio perché è incastonata tra le montagne, Quito ha un clima molto variabile, spesso nuvoloso e piovoso, e si dice che chi visita Quito possa vivere tutte e quattro le stagioni in un solo giorno. Dopo colazione siamo usciti alla scoperta del Barrio Antiguo, cioè il centro storico di Quito, caratterizzato dai suoi edifici colorati in stile coloniale. Per prima cosa ci siamo diretti verso la Basilica del Voto Nazionale, la più grande basilica neogotica del continente americano. Ne abbiamo ammirati interni e vetrate e abbiamo passeggiato nella zona circostante. La scoperta del Voto Nazionale La scoperta del Voto Nazionale Ci siamo avventurati nel saliscendi di vie coloratissime della città e con un po' di fiatone a causa dell'altitudine alla quale non eravamo abituati, siamo arrivati a Plaza Grande, dove si trovano edifici governativi e l'iconica cattedrale di Quito. Mentre ammiravamo Plaza Grande è iniziato a piovere, a riprova del fatto che il meteo sulle Ande cambia la velocità della luce. Allora ci siamo infilati in un ristorante super super locale dove abbiamo preso un almuerzo, cioè un pranzo completo ecuadoriano con zuppa, secondo contorno, devande, per soli 2 dollari e 50 a testa. A presto! A presto! A presto! A presto! Dopo pranzo abbiamo passeggiato alla ricerca di opere di street art e siamo arrivati fino a plaza di San Francisco dove abbiamo trovato Ecuador Shop, un piccolo negozio di arte locale che occupa un groviglio di tunnel sotto alla chiesa. Una vera e propria perla da visitare anche solo come museo. Siamo poi tornati sulla terrazza dell'ostello Secret Garden a pianificare alcune cose per il viaggio e a cenare godendoci la vista sulla città e l'atmosfera con gli altri backpackers. Tu me ves come nadi e ma bebe, mi deste alas per a che vuole, però motivos per a quedarme. Tu me ves como nadie mas bebe Tu me curas cuando mas me duele Si que siempre has sabido amarme Questo retortolito no queda bien bebe Recuerdo tus amigas diciendo que no Esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste mi amor Tu sei mi mejor Quito es un buen punto de partencia para este viaje Y me ha dado un assagio de la cultura ecuadoriana Pero no es para rimaner en la ciudad que he venido aquí Bensí para adentrarme en la natura selvaggia Rimanete con me la próxima semana Cuando realizaremos juntos el sueño de aprobar a las islas Galapagos Y seguir las tracciones de Darwin Alla descubrir los animales que le habitan